Presidente Sardori, lei dice giustamente che i meriti sono di Aldo, Zanetti, mi sono preso dei meriti che magari non ci sono mai, però la continuità è qui ed è in lei. È una decima edizione, quindi non male. No, direi di no. Poi quello che ci riempie d'orgoglio è che questa è stata, se non erro, la prima manifestazione del genere nel Veneto che ha aperto poi la strada e che ce ne siano per carità, più ce n'è e meglio è, perché sono eventi sportivi che aiutano a veicolare il messaggio della prevenzione che oggi è quello più importante. Oggi abbiamo visto dei numeri che sono impressionanti e su due di questi numeri importantissimi noi, proponendo un adeguato stile di vita e l'attività fisica, pensiamo di contribuire a questa battaglia che va vinta, indubbiamente. Corri in viola, aveva detto, per mescolare un po', ma io sono d'accordo con lei, i maschi li avrei forse lasciati a casa? No, direi che è venuta l'idea perché molte donne ci chiedevano di allargare anche all'ambito familiare la partecipazione a questa manifestazione qui. La prevenzione nell'uomo deve fare ancora molta, molta, molta strada e questa, perché no, è un'occasione. Terremo volutamente i due percorsi per gran parte della gara staccati per poi riunirsi, ed è questo il messaggio, facciamo fronte comune perché dobbiamo vincere tutti assieme questa battaglia.